Individuare e programmare interventi di compensazione ambientale è questa la finalità dell'accordo di programma strategico firmato questa mattina in Sala Giunta a Palazzo Santa Lucia, sottoscritto dalla Regione Campania, dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e dal Sottosegretario di Stato. L'accordo, siglato nel 2008 e modificato nel 2009, coinvolge 39 comuni, 12 in provincia di Napoli, 11 in provincia di Caserta, 8 in provincia di Salerno, 5 in provincia di Benevento e 3 in provincia di Avellino. Noi firmiamo la convenzione con il Proveditorato alle opere pubbliche che nell'ambito degli interventi di compensazione ambientale che si faranno su diversi comuni del territorio regionale dovrà realizzare opere per 47 milioni e mezzo. Ricordiamo che l'intero comparto delle compensazioni ambientali, si tratta di opere pubbliche, vale 242 milioni di euro. Quindi è un intervento anche economicamente molto significativo in un momento di particolare difficoltà economica e finanziaria per la nostra Regione perché significa rimettere in moto il comparto delle opere pubbliche. Questi interventi sono interamente finanziati per metà dal Ministero dell'Ambiente per 141 milioni, gli altri 141 milioni dalla Regione Campania. Gran parte di queste opere, quelle relative alle bonifiche, al ciclo integrato delle acque, depurazione e fognature, sono realizzate dalla Sogesid perché è il soggetto attuatore che è stato individuato dal Ministero dell'Ambiente. 47 milioni e mezzo invece sono le opere realizzate dal Prodetorato alle opere pubbliche perché riguardano interventi di riqualificazione urbanistica. Oggi noi con questa firma, con la Convenzione, daremo il via anche a questa seconda parte dell'intervento che è già partito circa un anno fa. Quanto alla tempistica, entro dicembre 2015 dovranno essere assunti gli impegni ritenuti giuridicamente vincolanti, ossia sottoscrizione dei contratti tra soggetti attuatori e operatori economici. A dicembre 2017 invece dovrà essere chiuso il programma di finanziamento e dovranno dunque essere completati e collaudati i lavori e dovrà essere fatta una certificazione e monitoraggio della spesa. Grazie.